Più di quattro ore di presidio sui cancelli dell'azienda dall'alba di questa mattina fino a mezzogiorno. Tanta l'indignazione, tanto lo sconcerto. 200 lavoratori non hanno più parole da lunedì sera quando in un vertice a Confindustria è caduto un fulmine a ciel sereno. Lo stabilimento gioiello della leader mondiale del settore navale, la sede di Grupparello, chiuderà il 31 dicembre. Il sindacato ha annunciato un tavolo nazionale con il gruppo Atlantis per il 13 novembre. Sì, la necessità di continuare a garantire una testimonianza efficace della volontà dei lavoratori che la settimana non finisce il venerdì ma riprende il lunedì è di garantire questa visibilità di un presidio di lavoratori la sabato e la domenica davanti a questi cancelli di questa fabbrica appunto per continuare a dare quella continuità al lavoro che l'azienda intende interrompere il 31 dicembre. Chiediamo all'azienda di mantenere sul territorio il sito produttivo, assolutamente perché per il territorio è fondamentale. Quanto ha influito la nuova tassazione su questa decisione? È ovvio che tutto il sistema fiscale verrebbe da fare una metafora con una bellissima vignetta di ciputi dove tu fai pagare le tasse giustamente ai ricchi e il risultato è che nella produzione poi si genera un effetto domino disastroso dove chi paga in realtà sono i lavoratori. I lavoratori ieri sera si sono presentati anche in consiglio comunale a Gropparello per chiedere di non essere lasciati soli. Improvvisamente è arrivata questa decisione che suona come una sentenza visto il breve tempo. Adesso ci muoveremo tutte le forze, l'amministrazione comunale, le forze politiche, i sindacati, i lavoratori ci muoveremo tutti uniti per cercare di sovvertire quella che suona oggi come una decisione irrevocabile. Noi siamo tutti mobilitati, siamo qui con il segretario del partito Silva, con Borotti, Bricchi, con Caminati per testimoniare i lavoratori che noi ci siamo e che insieme, perché questo è un percorso che dobbiamo fare insieme cercheremo di mantenere la produzione a Gropparello. L'onorevole Tommaso Foti del PDL ha presentato al ministro Fornero un'interrogazione sulla chiusura del cantiere.